E c'è Cagawa, c'è l'arga Hernandez, l'ha visto Cagawa, Hernandez sbuca il cicerito, 3-1 Manchester United, questi sono i suoi gol. Ma in area così è letale, si è infilato tra Pepe e Carvajal, e ha battuto facile Casillas. Qui non mi ha convinto appieno il portiere spagnolo, gran bella palla di Cagawa, 3-1 per i ragazzi di Van Gaal.